Voglio essere molto sincero, franco, ho molto sofferto la scelta di non andare a votare. Non perché vi fossero dei dubbi costituzionali, basta leggere la Costituzione per sapere che l'Istituto del Quorum, in quanto tale, permette di esprimere un dissenso dichiarato anche attraverso la non partecipazione al voto. Dunque si trattava di un'opzione perfettamente legittima sotto il profilo giuridico, politico e costituzionale. Ma ho ricevuto una e-mail da parte di un ragazzo che ha compiuto 18 anni nelle settimane scorse, un ragazzo classe 98, che mi chiedeva un consiglio, e io alla fine a lui non gliel'ho dato, che mi chiedeva un consiglio sull'andare a votare o meno, perché aveva l'emozione, provava il brivido di votare per la prima volta. Ho fatto fatica, dunque, a spiegare le ragioni del non voto. L'ho sofferto personalmente, ma l'abrogazione di questa norma, strumentalmente presentata come grande questione energetica, avrebbe portato a 11.000 licenziamenti. Credo che, indipendentemente dai suoi stati d'animo, il Presidente del Consiglio debba stare là dove si rischiano 11.000 posti di lavoro. Anzi, più correttamente, là dove si rischia anche un solo posto di lavoro.